Con il quale chiudiamo questa prima parte, tra poco salirà sul palco anche il Ministro della Difesa Guido Crosetto, prima di ovviamente il Presidente del Consiglio Giorgia Meloni. Ministro, molto spesso in questo anno lei ha dovuto parlare di un tema legato al cibo sintetico. Ultimamente sono tante le polemiche nate ma forse anche qualche sponda è nata nel frattempo. Ci può chiarire la situazione e il suo pensiero? Sì, lo chiarisco subito, però prima permettimi di fare dei ringraziamenti. Intanto ho fatto tante manifestazioni qui, Fabio Rampelli ricorderà, la manifestazione del 98 in cui Giorgia Meloni parlò dal palco presentando la sua candidatura alla provincia di Roma. È un'esperienza che condividemmo insieme, fu la prima vittoria del centro-destra. Allora, però non avevo mai visto il terzo anello aperto. Così tanta gente dentro il brancaccio raramente c'è stata per iniziative di qualsiasi genere, in particolare iniziative politiche. Complimenti davvero, complimenti a tutti i nostri amministratori e a tutti i nostri dirigenti. Permettetemi di salutare e ringraziare Giovanni Donzelli che è il nostro responsabile organizzazione per come ha lavorato nell'organizzazione di questa iniziativa ma anche dell'iniziativa in tutta Italia che scorrono sugli schermi. Permettete di ringraziare i ragazzi di gioventù nazionale che sono sempre una garanzia che il nostro futuro proseguirà, che questo partito non ha sorgenti che mancano invece di produrre per le future generazioni dei punti di riferimento. Molti di noi hanno iniziato l'esperienza politica attraverso la formazione giovanile che ti permette di arrivare poi magari anche a rappresentare le tue idee all'interno di istituzioni, consigli comunali, consigli provinciali, regionali, financo a fare ministri o addirittura come Giorgia Meloni il capo del governo. Ma ti porti dietro tanti anni di storia che ti hanno permesso di conoscere i singoli passaggi, di fare quell'esperienza che quando manca ti mette in condizione di dire oscenità come quello uno vale uno e di arrivare in Parlamento e fare esperienza sulle spalle del popolo italiano come è avvenuto per qualche collega negli anni che hanno preceduto l'esperienza di questo governo. E poi in generale buon compleanno al primo governo di destra centro di questa nazione perché un anno fa il popolo italiano si riprendeva la propria Costituzione. All'articolo 1 della Costituzione ci sono scritte due cose straordinarie. La prima, l'Italia è fondata sul lavoro, è una repubblica fondata sul lavoro e non sul reddito di cittadinanza. Se avessero voluti i padri costituenti scrivere uno scenità del genere lo avrebbero fatto e infatti siccome erano persone preparate e dotte non lo hanno fatto. La seconda, la sovranità appartiene al popolo. Per troppi anni, fino al 25 settembre, avevamo visto il popolo votare da una parte e governi formarsi con coalizioni frutto di intrighi di palazzo, di tradimenti del voto popolare. Ecco, il 25 settembre dello scorso anno il popolo italiano si è ripreso il diritto di interpretare nella maniera corretta la nostra legge più importante. Poi ci hanno raccontato per mesi, quasi subito, che non avremmo mangiato il panettone e come ministro dell'agricoltura e anche della sovranità alimentare questo doveva preoccuparmi fin da subito. E invece sono cominciati ad arrivare i dati reali, non quelli dei sondaggi, lo spread, cheppure non è salito come qualcuno diceva, è più basso di quando ci siamo insediati o le borse sarebbero crollate. In tutte e due le regioni, due schiapponi e silenzio per qualche altra settimana. Poi è arrivato il Friuli, 64%, poi è arrivato il Molise, una percentuale analoga a questo. Ogni volta che si vota il popolo ti dimostra di saper giudicare le cose che realizzi. Ed è questa la forza del nostro governo, non le chiacchiere. Io saluto ovviamente tutta la stampa presente, molto attenta al nostro lavoro, spesso più ai pettegolezzi che al lavoro. Quando si entra nel merito, non temiamo alcun giudizio. Però, io lo dico, mi piace leggere libri che scrivono quelli che non la pensano come noi. Uno a Natale mi ha chiesto perché leggi i miei libri e non la penso come te. E perché quello che pensiamo noi, io già lo conosco, devo sapere quello che pensano gli altri per crescere, per formarci. È tipico di una destra che crede in una cultura pluralista. E anche le trasmissioni di sinistra mi vedono. Dico, perché li vedi? Ma non ti fanno arrabbiare? No, no. Mi fa per tanto piacere sentirli parlare, attaccarci, perché non sanno davvero cosa dire. E l'altro giorno vedevo una bella trasmissione in cui, avendo finito gli opinionisti, Formigli intervista a Floris. Ormai si intervistano direttamente tra loro per cercare di dare un senso. Vi faccio ovviamente l'imbocca al lupo per le loro rispettive trasmissioni, come quelle di satira, che toccano sempre in maniera profonda. La satira è fondamentale quando resta, ovviamente, nel rispetto delle regole e del buonsenso civile. Ma è sempre fondamentale perché ti fa capire dove sbagli e dove puoi correggerti. Ci sono anche delle trasmissioni che quando fanno satira su di noi ci portano bene, che hanno iniziato a prenderci in giro quando stavamo all'1,5% e continuano a prenderci in giro e noi continuiamo a crescere. Quindi li devo ringraziare. Sono come un amuleto per noi. Poi permettetemi di ringraziare davvero tutto il governo per il lavoro che abbiamo fatto insieme. Vedete, non è che un governo si distingua per la capacità dei singoli. Io penso a Giorgia Meloni, ha ragione Eugenia, è donna, ma non è stata eletta perché è donna, è stata eletta perché è la più brava. Questo è il motivo per cui è stato in grado di rompere quel tetto di cristallo che qualcuno, quando parli a un giornalista britannico e dici Giorgia Meloni è la prima donna che guida questa nazione. Ti guardano pensando alla regina Vittoria e dicono ma noi siamo arrivati un po' prima di voi e queste sono cose che stupiscono. Abbiamo finalmente anche noi la possibilità di aver affermato anche in politica non solo la pari dignità ma la dimostrazione che ci vogliono 6-7 uomini per mettersi in condizione di eguagliare una donna in tutte le attività, compresa questa. e devo dire però che questo governo non si distingue da quelli che l'hanno preceduto per i singoli. Ovviamente qui ci sono degli straordinari ministri, insomma se uno legge il loro curriculum e lo mette in parallelo con i loro predecessori nota delle differenze. Ma non è tanto questo, è l'unità, la sintesi che sappiamo fare tra noi, la collaborazione che tutti notano. Noi ci troviamo troppo spesso, tutti quelli che stanno qui, quelli che stanno giù e saliranno dopo, quando sale Guido dobbiamo scendere tutti per ragioni evidenti, ma anche quelli che sono nelle trasmissioni adesso via etere che raccontano come tutte le sale d'Italia si sta discutendo, la ministra Calderone. Noi abbiamo avuto una capacità, che notano tutti, quella di arrivare e fare cose normali. Uno dice ma fate cose eccezionali. No, facciamo cose normali, ma ci dicono tutti spessissimo, troppo spesso, e questo mi dispiace, è la prima volta, è la prima volta che i ministri si presentano fuori dai nostri confini, non da soli, ma magari in due o tre. L'altro giorno eravamo in Tunisia con il collega Antonio Tagliani, con la collega Calderone, per affrontare un tema complesso che è la collaborazione con l'Africa, con questa intuizione che Giorgia Meloni ha avuto, di indicare un progetto che mettesse in condizione sì di arginare a valle il problema dell'immigrazione irregolare, ma di risolvere il problema a monte dell'immigrazione irregolare, mettendo in condizione l'Africa di crescere, come voleva Enrico Mattei, sulla base delle grandi potenzialità che ha quel continente non solo di diventare autosufficiente, ma anche competitivo. L'Africa, dal punto di vista del mondo agricolo, delle terre rare, delle risorse, vale più dell'Europa, solo che l'Europa e non solo hanno predato quel continente. Oggi hanno invece nell'Italia la guida di un progetto che vuole cooperare davvero per far crescere quelle nazioni. Sì, qualcuno ha detto, siete andati lì, entreranno 4.000 tunisini regolari. Certo, siamo tutti figli di emigranti, nipoti di emigranti. Un italiano non può essere contro l'immigrazione. Un italiano deve essere contro l'immigrazione illegale, deve essere contro l'immigrazione illegale, contro tutto ciò che è illegale, perché le leggi si fanno per garantire il consesso civile, per garantire che il più forte non prevalga su più debole. Quindi l'immigrazione illegale è un avversario. Ma l'immigrazione illegale la attui per garantire alle tue imprese di lavorare, di crescere. Lo fai sulla base di flussi che abbiamo immaginato, triennali, per dare un'organizzazione a flussi che venivano programmati a fine anno. Io mi sono trovato il 26 di novembre ad approvare il flusso 2022. Uno ha detto, ma scusa, già è accaduto, questo sia sanatoria, non organizzazione dei flussi. Li abbiamo trasformati per dare la possibilità a chi vuole venire a lavorare, a formarsi in Italia, di poterci arrivare in maniera regolare. Quello che non si è notato, forse abbastanza, è che 4.000 arriveranno regolarmente dalla Tunisia. Ma da quando Giorgia Meloni ha iniziato a lavorare con la Tunisia, negli ultimi, i dati delle ultime settimane, meno 80% di sbarchi irregolari e di vittime in mare. Questo è il dato che va segnalato. È un governo che ha fatto tante cose per la prima volta, anche strambe, col collega San Giuliano. Abbiamo candidato la cucina italiana a patrimonio dell'UNESCO. E io lo ringrazio, lui, il sottosegretario Mazzi, per aver avuto l'intuizione di fare questa proposta congiunta. La cucina italiana, bene in materiale dell'UNESCO. C'è quella francese, ci può anche stare. C'è quella giapponese, c'è quella messicana e anche quella coreana. L'Italia non c'era. Si erano dimenticati di raccontare che è un bene prezioso, che apprezzano in tutto il mondo e che deve essere valorizzato. E noi la valorizziamo non solo e non tanto perché ne siamo orgogliosi, ma perché collegata alla nostra filiera produttiva ci aiuta a fare un salto di qualità nell'export. Noi abbiamo già nell'agroalimentare 60 miliardi di export. È uno scalino di partenza, non di arrivo. Un punto di crescita che mette in condizione di creare ricchezza e lavoro. Perché la redistribuzione della ricchezza, che tutti vogliamo e che volevano pure quelli prima di noi, si può fare in tre modi. Uno, fare debito. Ne abbiamo fatto troppo. Lo saleo. Non possiamo farne ancora. Due, svendere gli asset strategici. Ne abbiamo venduti troppi. Non abbiamo intenzione di farla ancora. Tre, investire sulle imprese. Questa è la scelta che raccontava. Le imprese che sono restate e quelle che possono tornare ad investire. Abbiamo fatto viaggiare la cucina italiana su una nave più bella del mondo, il vascello Amerigo Vespucci. L'abbiamo presentato insieme a Polizia. Abbiamo rilanciato i giochi della gioventù insieme al collega con l'adesione piena del nostro ministero perché sport e alimentazione garantiscano il benessere alle future generazioni a cominciare dalla scuola. Lo abbiamo fatto riaprendo l'asilo. Io sono arrivato nel mio ministero e ho trovato l'asilo del ministero. Una grande intuizione all'epoca del governo di centrodestra che lo aprì. Metà dell'asilo era vuoto. Cioè non lo apriamo perché non abbiamo abbastanza inscrizioni. Ma dico in una nazione, in una città dove non c'è un posto che per i bambini noi teniamo un ministero. Abbiamo allargato con Eugenia la convenzione perché tutti i ragazzini potessero avere ospitalità nell'asilo del ministero che è ripartito con le proprie attività. Non c'è un ministero con cui non abbiamo lavorato insieme. Arrivo e chiudo sulla tua domanda. Con Orazio Schillasci abbiamo fatto una scelta molto rilevante. Quella di essere la prima nazione al mondo, se il Parlamento confermerà tra quindici giorni questo dato, che vieta i prodotti cosiddetti coltivati. Io li ho chiamati sintetici, poi quelli più leziosi. Dice no, devi dire coltivati. Il cibo finto. Il cibo che trasforma la nostra società e la cambia in maniera radicale. Vedete? Lo abbiamo fatto sulla base del diritto di precauzione, un diritto che l'Europa sancisce per le materie legate all'ambiente e alla salute a protezione del popolo. Cioè non verifichi che una cosa ti faccia male. Finché non sei sicuro che ti fa bene, la proibisci. E questa è stata la ragione per cui abbiamo, attraverso il ministero della salute, verificato che le condizioni ci fossero per normare in questo senso. L'abbiamo fatto nel rispetto della democrazia. Due milioni di firme raccolte di goldiretti. Tre mila e cinquecento comuni quasi sempre all'unanimità che hanno approvato i ordini del giorno che chiedevano al governo di vietarlo. Di ogni segno politico. Venti regioni, anzi diciannove regioni e le due province autonome. Faccio gli auguri a nostri candidati in Trentino e in Alto Adige. Oggi si vota lì come si vota nel collegio di Monza, come si vota a Foggia. Hanno chiesto di vietare la carne sintetica. Il mio predecessore del Movimento 5 Stelle, Patuanelli, che io rispetto tantissimo, perché è una persona che non la pensa come me, io non la penso come lui su tante cose, ma sulle materie agricole ci siamo trovati su tante cose. È stato firmatario della petizione goldiretti che chiedeva la proibizione delle carni sintetiche e dei cibi coltivati in laboratorio. E quindi abbiamo normato in ottemperanza un processo democratico e un ampio consenso. E lo abbiamo fatto per difendere la salute finché non si verifica il contrario. Per difendere però un modello produttivo che lega da millenni l'uomo, il lavoro e la terra, divaricando quella propensione culturale che anche in Europa, Nicola lo sa, si è affermata, in cui agricoltori, allevatori e pescatori sono i nemici dell'ambiente. Una fandonia basata su un processo logico. La terra, il mare sono quelli che danno da mangiare alle loro famiglie. Spesso la terra gli viene data dai loro genitori, la vogliono lasciare ai loro figli, la amano più di chiunque altro. Sono i primi ambientalisti del pianeta. Questo è quello che oggi dobbiamo tornare a spiegare in maniera diretta anche all'interno della ZTL, dove i bambini conosceranno. Che i polli nascano nei frigo dei supermercati e che la natura sia un fatto di cui si può fare a meno. Sono i primi ambientalisti perché proteggono il territorio. Ci hanno raccontato per anni che l'agricoltura inquinava e poi tu vedi che dove non c'è l'agricoltura viene giù tutto. Se uno guarda Ischia, le immagini di quando c'erano i terrazzamenti a Ischia, c'erano gli scoli d'acqua che permettevano di evitare che ci fossero quelle frane catastrofiche che abbiamo registrato. Ma così in Emilia-Romagna basta solvorarla per vedere che i danni di un'alluvione sono molto più contenuti dove il terreno è manutenuto dagli agricoltori. E questo è un dato oggettivo. E allora se tu produci il cibo in laboratorio, lo fai in un'industria invece di farlo nelle campagne e nel mare, tutto questo sparisce. E tu peraltro delocalizzi la produzione. Ma chi è che viene a mettere un'industria sia pure di cibo in una nazione come l'Italia dove devi pagare le tasse per garantire equità sociale, dove devi rispettare le leggi dell'ambiente, dove devi ottemperare... Vai in una nazione povera dove puoi sfruttare, dove puoi fare come ti pare, congeli e distribuisci. Questo è l'obiettivo... Come lo intendiamo noi, produttori, della sicurezza alimentare. Possa garantire la sicurezza alimentare, cioè il cibo per tutti, con il mondo che ha una crescita demografica imponente, senza aggiungere la parola qualità. Quella qualità che è nel prodotto e va difeso, ma è anche nel sistema produttivo. L'Italia ovviamente è leader in questo settore, il nostro valore aggiunto è esattamente su questo tipo di processo. E le nostre filiere garantiscono una distribuzione...